Apriamo le porte del Senato per i 70 anni della Confartigianato di Ancona, Pesaro e Urbino ed è un appuntamento importante per quel territorio, ma vorrei dire anche a livello nazionale perché l'artigianato rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni, ma altrettanto anche il nostro futuro. I 70 anni di Confartigianato Ancona, Pesaro e Urbino oggi rappresentiamo il grande lavoro del mondo della piccola e media impresa che ancora oggi è il motore dell'Italia.